basta rinuncio allora arriva Luis chiudi e vai via 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 ti porta sulla moto perché quando hai dato il via vai è troppo largo è troppo largo deve arrivare con il davanti dentro qua è vero è troppo largo perché se ti stai di qua nel dietro qua non ti vedi quindi quando allarghi la allarga tutto vedi via questo ma devi imbucarla prima non posso no la lì ce la fai ma pare che non ha salita ovviamente rovina tutta la strada adesso allora troppa manetta perché che devi andare dove guarda Stefano guarda dove ha girato lui dove c'è il davanti il tuo davanti era qua 5 5 5 5 5 5 5 è certo che c'è la corruta è certo che c'è la corruta eh manderina liberta e la corruta gli rompo le palle a lui chi fa vieni qua codino vieni qua codino vieni qua codino poi io la prima volta che la porto a tosare sono dovuto rimanere lì e tenerla eh certo non mi hai mai fatto eh ma mai fatto eh poi io ho avuto la pilantina di digli fammi qua con la macchinetta che ci ho sbagliato me l'ha fatta un po' la cazza e la fatta con la forbice e se no ma come ti ha messo lì no ma a me non respiro perché era una pepola quello si bella Andrea bravo ah ma bisognerebbe andare oltre? ah no è giusta così ole bravo bravo Andrea bravo Andrea bravo Andrea bravo Andrea pensavo anche il sasso pensavo anche il sasso pensavo anche il sasso no è fatto così ma dov'è il quattro tempo? anche noi me l'ha portata perchè?